Ciao, allora oggi continuiamo il nostro percorso attraverso gli Yama. Settimana scorsa abbiamo visto AIMSA, la non violenza, abbiamo visto il concetto ampio di non violenza, quindi è un concetto più amorevole e gentile. E sarei curiosa di sapere, però non posso entrare, non posso andare da tutti, però mi piacerebbe avere qualche riscontro se siete riusciti a fare quella osservazione che avevo suggerito di fare durante la settimana per vedere in quante occasioni abbiamo avuto la possibilità di applicare AIMSA nelle sue diverse forme e se ci siamo riusciti, se non ci siamo riusciti, se non ci siamo riusciti perché non ci siamo riusciti, come ci siamo sentiti, cos'è successo. È un lavoro interessante perché ci permette di scoprire dei risvolti sempre più particolari del concetto su cui stiamo lavorando e ci permette anche di capire molto di più su noi stessi, cercando di sospendere un po' il giudizio e di essere appunto più gentili con noi stessi. Oggi vediamo il secondo Yama che è Satya. Satya significa sincerità e quindi questo Yama ci chiede di essere sempre sinceri fondamentalmente. E anche qui ci sono tantissimi risvolti, tantissimi punti di vista da cui possiamo osservare e affrontare il concetto di sincerità. E' importante che Satya non sia mai slegato da AIMSA. Quindi è importante che le nostre parole siano sincere ma ancora più importante che non feriscano gli altri. E qui c'è un nodo molto importante, fondamentale direi, dovremmo imparare a non scambiare il nostro bisogno di sfogarci o di liberarci di un peso, di scaricare, di dire tutto quello che ci viene in mente per sincerità. Molto spesso mi capita di incontrare persone che dicano, ah io sono sincera, io dico tutto in faccia. Io quella roba lì non la trovo proprio sincerità. Spesso dietro a quell'atteggiamento c'è un bisogno di scaricarsi, di sfogarsi, di liberarsi dei propri pesi, delle proprie ossessioni. Proprio perché Satya la sincerità è innanzitutto parlare dal cuore con il cuore. E quindi magari fermarsi e pensare prima di parlare. Pensare se quello che stiamo dicendo ha un'utilità o no. Se quello che stiamo dicendo può ferire o no. Se può avere un peso, se può essere interessante o importante oppure se magari è una cosa che diciamo semplicemente perché vogliamo dirla. E se è questo il caso, allora magari prima pensiamo se la cosa che abbiamo voglia di dire possa ferire qualcuno o no. Satya significa mettere autenticità in ogni cosa. Patanjali ci dice che l'uomo realmente sincero sviluppa la verità della parola per cui tutto quello che dice si avvera perché è così sincero che non può essere altro. E questo proprio è il concetto di Satya. Mettere autenticità in ogni cosa. Non so se vi è mai capitato di magari in un discorso o magari non so dovete parlare in pubblico, dovete presentare qualcosa in ufficio, dovete dire qualcosa di cui magari non siete completamente convinti. E il vostro tono di voce cambia completamente. Magari la voce sparisce, il volume della voce si abbassa. Magari parliamo ancora più velocemente o storpiamo un po' le parole o magari la parola clou della frase ci viene un po' masticata. E quello è il segnale che quello che stiamo dicendo non risuona realmente con quello che siamo e con quello che vorremmo dire. Magari dobbiamo dirlo, sentiamo di dover dire qualcosa, ma intimamente sappiamo che non vorremmo o non dovremmo dirlo. Per questo è molto importante, per seguire Satya, permetterci di darci un po' più di tempo all'ascolto interiore, che può essere attraverso la meditazione, per chi è abituato a meditare, attraverso la pratica, ma anche semplicemente rimanere in silenzio, occhi chiusi per qualche tempo. Proprio per osservare se quello che stiamo per dire magari è una cosa importante, magari è una cosa che ci agita. Cercare di capire se risuona, se vogliamo dirla veramente, perché siamo così agitati. Abbiamo paura del risultato? Magari è una cosa che ci cambierà completamente, cambierà le carte in tavola e magari semplicemente abbiamo paura dei risultati. Ma magari invece intimamente sappiamo che quella cosa non vorremmo o non dovremmo dirla. E allora prendiamoci il nostro tempo per ascoltarci e per osservare se quello che stiamo per dire corrisponde a quello che siamo e se non va contro a Himsa. Per questo il concetto di Satya mi piace particolarmente. E se magari succede qualcosa che abbiamo paura faccia, possa far magari arrabbiare qualcuno con noi o magari c'è un imprevisto, succede qualcosa per cui magari ci sentiamo anche in colpa perché non riusciamo a mantenere la parola, non riusciamo a mantenere una promessa o un impegno, l'idea migliore è sempre comunque comunicare con Satya. Quindi dire sinceramente quello che è successo. Perché, come si dice, le bugie hanno le gambe corte. Mentre quando parliamo con il cuore spieghiamo quello che ci viene in mente, quello che è successo, dall'altra parte non possiamo che ricevere lo stesso trattamento. E quindi vi chiedo se questa settimana avete voglia di riflettere e osservare in quante occasioni avete avuto, avete la possibilità di praticare Satya e in quante occasioni magari vi siete sentiti trattati con Satya o non trattati con Satya e come vi siete sentiti. Ciao, a settimana prossima.